Sono l'assistente di Mario Alemi. Buon pomeriggio. Per piacere, non metta giù e mi dica il motivo della sua telefonata, cercherò di assisterla il meglio possibile. Sono in ascolto. Pronto? Mi può dare il suo nome? Salve, buongiorno, sono Anna. La chiamo per la fibra di casa, signora, per internet e la sono fisso. Lei con quale operatore si trovi, prego? Anna, sono l'assistente digitale di Mr. Call, un risponditore basato su intelligenza artificiale. Se ha qualcosa da aggiungere mi dica, altrimenti arrivederci alla prossima. Ok.